Musica Ieri intorno a mezzogiorno i vigili del fuoco impegnati a Carini sono dovuti intervenire in un villaggio in provincia di Palermo per il distacco di alcuni massi da un costone roccioso che sono caduti all'interno di alcune abitazioni e sono dovute essere evacuate precauzionalmente alcune abitazioni limitrofe e in corso ricognizione di aria con droni per la valutazione tecnica dell'aria interessata dallo smottamento tre i massi distaccatisi dal costone che sono caduti all'interno di una cucina arrotolati fino alla camera da letto e in un'abitazione all'interno del parco degli olivi di Carini e il sindaco di Carini sta cercando di monitorare insieme ai vigili del fuoco la situazione è messa intanto un'ordinanza di sgombero, bisogna vedere se sarà costretto ad estendere l'aria Sta all'abusiva i 700 grammi di marijuana nascosti in un garage nel quartiere San Giovanni Galermo a Catania i carabinieri della compagnia Fontana Rossa col supporto dei colleghi del XII Reggimento Sicilia del nucleo cinofili di Nicolosi nonché con l'ausilio di personale veterinario hanno svolto un servizio di contrasto all'illegalità diffusa e al traffico illecito di sostanze stupefacenti ispezionato a un garage in via ustica di proprietà di un pregiudicato di 48 anni si sono trovati di fronte ad una vera e propria stalla al cui interno era alloggiato un cavallo per l'uomo sono scattate le previste sanzioni amministrative per un importo di 1800 euro stante la mancata registrazione dell'ogala di Bito Scuderia l'omessa registrazione nella Banca Dati Nazionale dell'Equide e l'irregolarità connessa al sistema di identificazione degli animali essendo il cavallo sprovvisto di microchip l'animale visitato dai veterinari che l'hanno trovato in apparenti buone condizioni è stato affidato in custodia al proprietario che dovrà farsi carico di reperire un alloggio adeguato alla sua custodia nel proseguo dell'attività il dispositivo dei carabinieri grazie all'ottimo fiuto dei cani antidroga ha rinvenuto ben nascosto in un locale attivo al garage un borsone contenente 700 grammi di marijuana suddivise in sé buste nonché una pistola giocattolo privo di tappo rosso marca Bruni modello 85 con caricatore senza colpi a riguardo sono in corso le indagini e gli esami tecnici volte ad accertare la riconducibilità di droga e dell'arma i finanzieri del gruppo di Ragusa nell'ambito del potenziato piano di controllo del territorio e finalizzato la verifica dell'osservanza delle norme materie di tutela del lavoro hanno sottoposto a controllo diversi operatori economici operanti nella provincia eblea le fiamme gialle hanno eseguito confronti in diverse tipologie di imprese principalmente operanti nel settore della ristorazione individuati 14 lavoratori in nero di cui due risultanti anche per settori di credito di cittadinanza e due lavoratori irregolari nei confronti dei cinque datori di lavoro sono state elevate sanzioni amministrative per 40.000 euro anche per l'ipotesi aggravata per impiego di lavoratori in nero per settori di reddito di cittadinanza per cui è scattata la segnalazione all'Inps per la revoca del beneficio e la restituzione con effetto retroattivo delle somme indebitamente percepite è stata inoltre proposta nei confronti di quattro imprese la sospensione dell'attività imprenditoriale all'Ispettorato del Lavoro di Ragusa per il superamento della soldina del 10% di personale regolare rispetto a quello presente sul luogo di lavoro è arrivato l'esito del procedimento ordinario avviato d'ufficio che ha decretato il terzo seggio per la lista del Luca Sindaco di Sicilia segnando l'ingresso al Parlamento siciliano del consigliere comunale Alessandro De Leo Sud Chiama Nord aveva presentato osservazioni sulle sezioni nelle quali erano state riscontrate delle anomalie né dati comunicati dai comuni alle prefetture a seguire l'iter l'avvocato Gaetano Maiolino che spiega come sono stati riscontrati 65.684 voti alla lista del Luca Sindaco di Sicilia che le consentono di determinare due quazienti interi ed un resto di 14.340 voti utili ad assegnare il settimo seggio degli otto della provincia di Messina soddisfazione da parte dell'ex sindaco di Messina Cateno De Luca Ora possiamo comunicare che la lista De Luca Sindaco di Sicilia a Messina ha avuto un'assegnazione iniziale non corrispondente alla segnazione che doveva essere effettuata in base ai voti di lista. Quindi da due seggi che sono stati assegnati alla lista De Luca Sindaco di Sicilia nella provincia di Messina si passa a tre seggi. E questo che significa? Significa che quel plebiscito effettivo che avevamo riscontrato già durante la nostra attività si è tradotto nella corretta assegnazione dei seggi e siamo felici di questo. Da giorni a seguire l'iter il presidente di Sicilia Vera Giuseppe Lombardo Ringraziamo noi tutto il collegio presiduto dal giudice Bonfiglio che hanno fatto un lavoro attento naturalmente hanno seguito le nostre osservazioni però possiamo tranquillamente dire che questo è un lavoro che viene fatto d'ufficio perché compete proprio all'ufficio circoscrizionale centrale verificare quelle che sono tutte le cifre elettorali riportate nei verbali. Quindi eravamo sereni del lavoro che abbiamo svolto, eravamo sereni del risultato che avevamo conseguito sul campo, dovevamo soltanto attendere quelle che erano le nostre indicazioni che avevamo dato come la legge ci consente di fare e quindi con il delegato di lista che è l'assessore Cannata che si è presa la briga di firmare materialmente le nostre osservazioni noi abbiamo ottenuto Liana! Liana! Liana Cannata abbiamo ottenuto il risultato che già era nelle carte dovevamo semplicemente aspettare. Adesso verrà trasmesso tutto all'ufficio circoscrizionale regionale che verificherà quale sono le liste ma già si sanno che hanno superato il 5% su base regionale e saranno restituiti questi numeri agli uffici circoscrizionali in ogni caso provinciale per la verifica poi delle preferenze Soddisfazioni ed emozioni per Alessandro De Leo che si dice orgoglioso di poter rappresentare all'Ars la gente alle stanze del territorio messinese Intanto questa non è solo la nostra vittoria, la mia vittoria, ma è la vittoria di tutti i messinesi e di tutti i cittadini della provincia di Messina Noi a differenza degli altri non abbiamo festeggiato, non abbiamo fatto dichiarazioni ma abbiamo aspettato che l'ufficio centrale si riunisse Così è stato, è stato fatto un lavoro in mano e ringrazio il Presidente, il Giudice Bonfigli e tutti i suoi collaboratori per il lavoro che hanno svolto e ringrazio tutto il gruppo di Sicilia Vera che mi ha accompagnato in questi giorni particolarmente travagliati di stress e di ansia e tutto il mio gruppo, la mia famiglia e tutti che mi sono stati sempre accanto e oggi viene semplicemente confermata quella che era la volontà degli elettori la volontà dei messinesi e di tutti i cittadini della provincia di Messina che vogliono essere rappresentati da noi all'interno del Parlamento siciliano e noi li rappresenteremo al meglio all'interno di quel palazzo Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 tornano le giornate FAI d'autunno il grande evento autunnale di piazza che il FAI dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese animato e promosso dai gruppi FAI Giovani col supporto di tutte le delegazioni, gruppi FAI e il gruppo FAI Ponte tra culture attive al nord e a sud della penisona 700 luoghi speciali in 350 città d'Italia palazzi, ville, chiese, castelli, aree archeologici, musei, siti militari esempi di archeologia industriale, luoghi di istruzione e centri di ricerca saranno mostrati attraverso lo sguardo appassionato e originale dei giovani del FAI ad Agrigento sarà possibile riscoprire il giardino della Colimbetra la stazione ferroviaria, il castello Chiaremonte, il museo Mete e il santuario Crucifisso per quanto riguarda Catania, basilica collegiata di San Sebastiano e Museo d'Arte Sacra la basilica di San Nicolo Larena, la chiesa di Sant'Antonio da Padova da Cireale invece ad Enna la chiesa e il convento dei Frati Cappuccini con l'annesso parco noto come l'Orto dei Frati il parco minerario Floristelle e Grotta Calda a Castelbuono a Palermo la chiesa dell'Itria e la Matrice Vecchia insieme a chiesa di San Francesco e il chiostro Mosoleo dei Ventimiglia a Palermo si potrà visitare Porta Nuova, il loggiato San Bartolomeo a Messina la Lanterna dei Montorsoli, a Siracusa la Spirduta e a Trapani sia il giardino Pantesco Donna Fugata che sulle orme di Francesco, chiesa San Francesco Il corpo forestale della regione siciliana ha attraversato la storia di due sgorci di secolo a cavallo di due millenni e celebra 50 anni di istituzione nel solco di un'antica tradizione di tutela ambientale con lo sguardo proiettato in un futuro di rilancio e di riscoperta dell'immenso patrimonio naturalistico dell'isola La notizia della regione siciliana è stata presentata a Palazzo d'Orleanse la pubblicazione edita dalla regione Il corpo forestale siciliano 50 anni nel territorio che ripercorre la storia di questa prestigiosa e insostituibile istituzione attraverso documenti, aneddoti, testimonianze e una raccolta di immagini alla presenza dei capi degli ispettorati dipartimentali delle foreste Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti